Brutto episodio al raso degli Abruzzi, precisamente sul lungomare centrale, due notti fa, è stato danneggiato e vandalizzato il mosaico che si trova all'entrata dello stabilimento Celommi, proprio al centro del litorale rosetano. Vandali, perché è giusto chiamarli in questo modo, hanno sollevato e tirato via le varie tessere che compongono il bel mosaico fatto dall'artista Bruno Zenobbio, con quest'ultimo bravo poi a riattaccare e rimettere insieme il tutto. Anzi c'è di più, perché come confermano alcune persone, per terra è stata ritrovata una bottiglia di vetro, forse lanciata verso il mosaico da queste persone. Il ritrovamento da parte del titolare Silvio Celommi, figlio del compianto Giuseppe e gestore dell'Ido insieme al fratello. Si torna quindi a parlare della situazione legata all'attivazione delle telecamere di videosorveglianza sul territorio e su sicurezza in generale. Celommi su un post sui social fa riferimento anche alla mancanza di educazione e se per divertirsi c'è bisogno di vandalizzare un'opera in pieno centro durante l'alta stagione, occorre forse tornare ad essere più severi ed anche antipatici nel pieno rispetto di chi vuole divertirsi ma nel modo giusto.